Non c'è solo l'impegno della Regione Marche nel migliorare le attrezzature tecnologiche delle aziende sanitarie e territoriali, c'è anche quello dei suoi dirigenti medici. È il caso della radioterapia di Muraglia che in questo 2024 ha visto attivarsi quell'acceleratore lineare che è stato il primo in regione installato grazie a fondi PNRR. Strumento all'avanguardia per qualità di prestazioni, per snellimento di liste d'attesa, fortemente caldeggiato dal primario Faisal Bunkeila, andato in pensione poche settimane dopo l'entrata in funzione dell'acceleratore. Abbiamo lavorato tanto e dico veramente abbiamo lavorato tanto perché abbiamo praticamente iniziato a lavorare il primo giugno del 2023 per inaugurarlo a gennaio 2024, quindi l'apparecchio è in funzione da gennaio 2024. È un apparecchio all'avanguardia e serve effettivamente per i nostri pazienti. Ricordo sempre che la radioterapia dell'AST Pesaro-Urbino non serve solamente alla provincia di Pesaro-Urbino ma serve anche oltre la nostra provincia a tutte le regioni Marche ma anche fuori dalle regioni Marche arrivano dall'Emilia-Romagna e anche altrove. Il dottor Bunkeila di origine libica ha diviso la sua carriera fra Sontorsola e Università di Bologna e gli ultimi 12 anni a Pesaro. Lascia un ospedale di murale che aggiunge contenuti tecnologici ad un contenitore che andrà ripensato su quello che sarà il sito del nuovo ospedale. Dove sta la radioterapia, la medicina nucleare e l'immatologia non saranno toccati quell'edificio lì perché quell'edificio lì è intoccabile a dire la verità perché non conviene effettivamente andare a fare nuovi bunker eccetera. L'edificio che ospiterà l'ospedale nuovo sarà vicino ed è importante, il mio appello è quello di non investire solamente sull'immobili e sull'attrezzatura ma investire anche sul personale, sull'essere umano, sulla risorsa umana perché secondo me la risorsa umana è importantissima perché se no noi creeremo delle scatole vuoti. Dopo il pensionamento Bunkela si è candidato al Consiglio Comunale 107 voti ottenuti nella lista Forza Pesaro con Mila della Dora con la convinzione che in sanità, nonostante le competenze prettamente regionali Pesaro debba far sentire la voce delle esigenze della seconda città delle Marche. Ovviamente noi sappiamo che la sanità è di competenze regionali però la seconda città delle Marche ha la sua voce e ha anche la sua popolazione il mio impegno è quello che ho promesso anche alla gente ai miei elettori, a coloro che hanno avuto stima e fiducia in me è quello di non ammainare la bandiera la mia è una lotta per il sistema sanitario nazionale io ricordo a tutti quanti che il nostro sistema sanitario nazionale è uno dei migliori al mondo va difeso e va sostenuto grazie